Benvenuti allo stand Cristi, sono Angelo Tacca, responsabile di Cristi sul territorio nazionale e distributore esclusivo del brand Cristi. Nello stand noi presentiamo delle nuove gambe di prodotti che sono stati introdotti sul mercato in occasione di Ise, tra le quali i nuovi prodotti della serie G e della serie Q che sono prodotti DLP, singolo chip, prodotti da Cristi che vanno a sviluppare soluzioni per sale di presentazione all'interno delle strutture aziendali, conference system e il mondo dei noleggiatori. La nostra struttura italiana, l'Eom Italia Service, cura tutta la parte distributiva sul territorio nazionale. Abbiamo la copertura a livello nazionale con una rete di rivenditori specializzati per il mercato audio-video. Abbiamo differenziato anche un network di collaboratori che operano nei vari settori differenziati dal mercato audio-visual, che sono il settore del cinema, il settore della simulazione, il settore delle sale di controllo di processo e della realtà virtuale. Nonché il settore del renta staging che curiamo direttamente. Gli ultimi cinque anni ci hanno visti concentrati su quello che è il mercato del cinema digitale, la conversione verso il mercato digitale. E' una conversione che verrà finalizzata entro il termine di quest'anno. Da questo punto di vista noi ci stiamo focalizzando sulle nuove opportunità che il mercato ci sta generando, che sono quelle appunto di un evento che sarà importantissimo nel prossimo anno per l'Italia, che è l'Expo. Dopodiché stiamo ristrutturando tutta la nostra rete distributiva con nuove figure professionali che andranno a coprire le varie esigenze di mercato. Il nostro team si è ampliato in questi ultimi tempi. Abbiamo preso 4 o 9 persone che si andranno a occupare nei vari segmenti di mercato. Il nostro fuoco quest'anno è in modo particolare quello di terminare la conversione delle sale cinematografiche verso il digitale. E questo noi saremmo focalizzati sino alla metà di questo anno. Ma parallelamente comunque abbiamo come obiettivo quello di rientrare nel mercato del renta staging e delle installazioni fisse dove a causa di questo nostro fuoco sul mercato del cinema digitale abbiamo lasciati un po' in disparte negli ultimi anni. Per cui questa implementazione di nuovo personale ha come obiettivo quello di andare a fornire al mercato un servizio più presente.